Scusa Milano, scusa Milano, intervengo anche da Genova dove c'è il vantaggio della Samp, è stato siglato in questo ottavo minuto da Manolo Gabbiadini e dunque cambia il parziano, il pallone riesce a darlo in verticale a Bonazzoli, Bonazzoli da lontano, gol! Un tiro scoccato, parecchio al di fuori dell'area di rigore, diagonale potentissimo, è passato sotto il braccio tra il fiore di Vantis, c'è il terzo gol della Sampdoria, un'azione repentina in questo ottavo minuto della ripresa, la deviazione acrobata.